Audio Jungle Amici ed amiche di Vivi Casa Giove, buonasera! Eccoci ritrovati! Quest'oggi vorrei proporvi una ricetta prettamente estiva, la Cheesecake Cornetto Algida. Per quel che riguarda la base, ho realizzato questa pasta a biscotto con dei frullini, ecco qui, e del burro fuso. Invece per la crema, ecco qui la panna già montata e questa crema di latte condensato che pian piano andrò a versare nella panna effettuando un movimento molto leggero. Faccio vedere in questo modo. È importante perché la panna non deve assolutamente essere smontata. Ecco, questo è il tipo di movimento che andrò ad effettuare. dall'alto verso il basso con il cucchialo. La crema è pronta per essere versata sulla torta. Perfetto, possiamo passare adesso alla decorazione finale. Per completare la torta, decoriamo con dei cornettini algida. ed ecco fatto. La torta è pronta. Adesso proporrò la versione della stessa torta, sempre della cheesecake cornetto algida, però in questo bicchiere. Faccio vedere. Inizio sempre dalla base, quindi dai biscotti. e adesso completiamo con le noccioline. ed ecco una versione alternativa della cheesecake cornetto algida. Grazie. 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 Grazie.